Musica Calcio d'angolo a rientrare E la palla sulla testa Di Cussig Avanza al numero 2 Fa partire Un Tiro cross Può tentare l'uno contro l'uno Arriva anche Peresini sulla catena di sinistra Fabro Perfetto il cross Volto a una conquista Territoriale Calcio di punizione Da dietro le linee nemiche Sbuca Andrea Tomada E inizia ora La seconda frazione di gioco Cerdì Smuzzane sta peccando un po' In fase realizzativa A parte Un'occasione Fabro Ha avuto pochi palloni giocabili E ha appena detto Il bombo al Fabro Interviene Su un cross dalla destra Lasciato libero Dalla difesa Della Virtus Corno Due palloni giocati Dal bomber Un colpo di testa Poco oltre la traversa E un gol Da parte di Pippo Fabro Alza un campanile E poi Alto break Per il Cerdì Smuzzane E questa è la munizione Per Tomada Che era già stato munito Nel primo tempo E quindi Doppio giallo Per Andrea Tomada Vince Un primo Dribbling E poi mette Pallone Sul cross In cornata di testa Laddove Zanier Non può arrivare Mette un pallone Verso a Campola Campola Nel turniera di rigore A Campola A Campola Spara Spara un pallone Direttamente in bocca A Zanier Si Sviluppa in un Dubbio Piccolotto Mette un pallone Al centro Fabro Fabro E Zanier Da Campione Ultimissima azione Modas Si aggiusta Pallone Che Cramola Tra i piedi Di Riccardo Zanon Tenta l'aberta La limite dell'aria Nella circostanza Il Fischio finale La Virtus Corno Esce Con una sconfitta Per 2 a 0 Dal campo Del Cerdì Smuzzane Con il mister Zanutic E' giusto Se dico che Primo tempo Avete difeso Avete giocato Con grande ordine Nel secondo tempo Disattenzione Gol di Fabro E da lì La partita è girata Poi anche con l'uomo in meno Era impossibile Fare qualcosa di più Si L'avevamo preparata bene Molto bene Secondo me Ha fatto un primo tempo Buonissimo Da squadra giusta Importante Con le distanze giuste Tutto bene Mi dispiace Però Averla persa In questa maniera qua Sinceramente Mi dà fastidio Io non mi lamento mai Albitro In tutte le categorie Va bene tutto Però se c'è rigore Lo devi fischiare Dopo il secondo giallo De Tomada Veramente Non rovinare una partita Sinceramente Finisce 11 contro 11 E' giusto che sia così Perché non ci stava il giallo Perché non ci stava la munizione Perché non è giusto Secondo me Al mio modesto punto di vista Poi Va bene Sono stati bravi Hanno avuto tante occasioni Dopo in 10 Abbiamo lasciato spazio Perché logicamente Glielo devi lasciare Sono bravi davanti E' giusto che sia così Però Ho molto rammarico Sinceramente Perché secondo me Era giusto Forse forse Qualcosina di diverso Sì Va detto comunque In un primo tempo Come dicevo prima Avete giocato in maniera ordinata Su Gasci c'era rigore È evidente che Insomma Anche le immagini Lo dicono Siete venuti qui Per giocare Che tipo di partita Quella che avevamo visto Nel primo tempo O magari qualcosa di diverso No no L'avevamo impostata Giustamente così Perché sapevamo Le caratteristiche loro Perché sapevamo Come dovevamo affrontarli Li abbiamo concesso nulla Abbiamo fatti giocare Solo i due centrali Con lanci di 30-40 Perché non ho visto Un passaggio a raso terra In 45 minuti Se non sbaglio Quindi voglio dire Era questo Volevo far giocare I due centrali dietro Quello che è successo Dopo però Casca il palco Quando fai un errore Di posizione Su una palla laterale Che non lo devi commettere Perché ci alleniamo Solo su queste cose Soprattutto Però è giusto Che sia così Sbagliano tutti Sbagliano Sbagliano Le categorie importanti Sbagliano qua E basta Però questa squadra Questa adesso è squadra Abbiamo messo dentro Nel motore Parecchia benzina Stiamo bene Abbiamo preso Qualche calciatore Importante In questo momento Purtroppo Cipracca Oggi il lavoro Non ce l'ha tolto Miraglia sta recuperando E con il giorno De ritorno Penso di averlo E quindi Gli altri Stanno salendo È una squadra Che non merita Assolutamente La posizione In classifica Che ha È una squadra Che si tirerà fuori Sono straconvinto È difficile È lunga Però ci siamo È È grande Ci vuole anche Un po' di sfortuna In questo caso Perché se fai un errore E c'hai Pippo Fabbro davanti È chiaro che non ti perdona Non è che li trovi sempre Tutti i giorni Però è Pippo Fabbro Di fronte In realtà Mister Con questi nuovi innesti L'obiettivo è Salvarsi Ma? C'è Con questi nuovi innesti L'obiettivo Siamo arrivati Avevano 5 punti Se non sbaglio E 4 Non mi ricordo neanche Abbiamo fatto fatica All'inizio Ci ho messo un mese A cercare di rimettere Un pochino Le cose come le volevo io Ecco sinceramente No Senza nulla togliere Al mister Che era prima di me E tutto quanto L'obiettivo È fare i più punti possibili Ce la dobbiamo fare Ce lo faremo Sono straconvinto Perché ce la possiamo fare Ma non è il discorso Favro C'è l'Ismuzzani A 36 punti Con oggi Se non sbaglio Ma non è Non è Favro O un altro Sono bravi Giustamente sono lì Ma ce ne sono tanti Altri bravi Per l'amor di Dio Con tutto il rispetto Che posso avere di Favro E compagnia bella Però noi l'abbiamo tenuto bene Al primo tempo L'abbiamo concesso Un colpo di testa Su un calcio laterale Basta Fine Sono contento Sono incazzato nero Per come è andata la cosa Però sono stracontento Di quello che ha fatto la squadra Mister Adesso logistica Durante le vacanze di Natale Vi allenate Per ritornare poi a gennaio Con il carico di benzina Beh assolutamente sì Abbiamo un programma importante E fa bene Dove tutti quanti Devono essere presenti Non esiste la non presenza Ci dobbiamo essere sul pezzo Dall'inizio Subito Dall'una di sera Che ripartiamo E via Ma ho un gruppo fantastico Siamo 22-23 persone Ogni allenamento Ogni sera Ci alleniamo bene La squadra si vede Perché il campo Ci ha dato questo E quindi Avanti Ma sono sereno E tranquillo Veramente Mister Buona tarda E buon inizio La ringrazio tanto Contraccambio a lei A tutti E a tutti gli sportivi Grazie Charlins Si conferma in testa La classifica Campione di Venno Lo era già Prima di questa partita Con la Virtus Corno Ma mister Vittore Che partita Hai visto Contro la Virtus Corno Dei tuoi Beh devo dire Che il primo tempo Siamo stati Un po' tirchi Si può dire Un po' tirchi Da un certo punto Di vista del gioco Eravamo un po' timorosi Loro Loro comunque Avevano motivazioni incredibili Chiaramente Se giochi Contro una squadra Che loro Vanno a mille E tu Non vai E vai in rischio Qualsiasi squadra Tu possa giocare Però l'importante Insomma è stato Quello di entrare in campo Sì di arrivare All'intervallo Almeno 0-0 Di non essere sotto E dopo abbiamo sistemato Alcune cose Nello spogliatoio E pian piano Diciamo E poi è venuta fuori Anche un po' di mentalità Qualcuno ha avuto più Sicurezza Su certe giocate Tutto sommato Insomma Credo che sia legittima La vittoria Penso che C'era un rigore Su Gasci A meno anche le immagini L'hanno confermato Però al di là di questo Nel primo tempo Ha fatto fatica Proprio a sviluppare La manovra Facendo spazi strettissimi Sì perché noi Loro giocando Con un certo sistema di gioco Chiaramente tu Devi fare il contrario di loro Perché loro volevano Tanti palloni in mezzo E noi invece Li dovevamo mettere sugli esterni Spesso arrivavano Con palle lunghe Invece non dovevamo fare così Dovevamo andare Su palle veloci Ed andare a fare L'uno contro l'uno Sugli esterni E non l'abbiamo mai fatto Stavamo sempre lì A buttare palle Buttare palle E sai Comunque i difensori Del corno Sono buoni difensori Insomma quindi Erano bravi loro A sopperire Eventuali altre carenze Diciamo Però insomma Il secondo tempo Tutto sommato Siamo andati bene Ho visto il secondo tempo E anche Hai messo dentro moda Sei elettrato piccolotto Alla fine Comunque gli equilibri Hai trovato così Sì sì Anche perché Nastri era stato ammonito Ho detto qua Non vorrei mai Che succeda Tipo domenica scorsa Su Candusio E allora Ho preferito toglierlo Tanto piccolotto Stava facendo l'esterno Ma è un centrocampista E allora In quel modo là Ho anche dato la possibilità A Moras Di fare minuti Che a me servono Archiviati questi tre punti Adesso c'è da pensare Alla Coppa Italia 6 di gennaio Contro la gemonese C'era il mister Pittellino Qui in tribuna Che ha visto la partita Che tipo di lavoro Farai in previsione Nella Coppa Italia Beh sicuramente Un lavoro un po' diverso Rispetto a quello Che si fa di solito Perché bisogna Essere pronti Bisogna essere pronti Per il 6 gennaio Questo mi dispiace Un po' Perché Certe situazioni Poi insomma Non vorrei Che durante l'anno Poi vai un po' A pagare Perché Certe squadre Si preparano Per dare Continuità Nel lungo Tu invece C'hai una Una manifestazione Da farla subito E quindi Devi essere pronto Il 6 gennaio Però Insomma Va bene così Dobbiamo comunque fare Ho detto che l'anno scorso La finale L'ha giocata il Vesna Che era già salvo A questo punto del campionato E il Flaibano Che ha pagato Infatti forse è questo Che intendi Sì sì Ma questo è un dato di fatto Comunque non è che sono io Che lo sto dicendo E chi arriva in finale A gennaio Purtroppo Durante l'anno Poi Ma non è che lo dico io Basta andare a vedere Le classifiche Degli ultimi anni È così O sei attrezzato Che hai tanti giocatori E se devo dire Io mi auguro Che noi non andiamo Incontro a certi problemi Se stanno tutti bene Io ho una buona rosa Il problema è che qua Io non riesco mai A far giocare la squadra Che ho nelle mie intenzioni Non riesco mai Non l'avete mai vista La squadra Che io vorrei far giocare Però forse È bene così Siamo primi Quindi tutto sommato Forse è meglio Se è prima Se è finale di Coppa Va bene anche così Non giocherà Fabio Però ricordiamo La finale di Coppa Sì appunto Sì Non ci sarà neanche osso Perché anche lui Era su questi regolamenti assurdi Però purtroppo È così Ministro Intanto allora Buon Natale E vedremo noi per via scatole Per la prossima settimana Per la presentazione A voi A voi Buon Natale anche a voi Alla premiazione Il premio Comusfi Fabio Capello L'abbiamo vista emozionata Mister Sì perché ho visto gente Che mi ricorda Un periodo particolare Della mia carriera Della mia vita Soprattutto Gigi Era Una persona Che Valeva la pena ascoltare Era pacato Molto attento Conosceva tutti E non diceva mai Sciocchezze E quindi Quando ho visto La signora Che mi ricordava Anche di lei La sua moglie Mi ha toccato un po' A volte si abusa Invece no Non è così Bisogna lavorare Perché la fortuna Può venire una volta Quando vinci la lotteria Ma poi Anche con quella Non è sufficiente Perché Alcuni perdono tutti i soldi Perché allora Non vuol dire fortuna Bisogna stare attenti In tutte le cose Soprattutto la dedizione L'attenzione ai particolari E questo È stata Una delle chiavi Che mi ha portato Sempre A pensare In maniera positiva Ecco Fra l'altro Una delle cose Importanti per me Una volta Vinto Raggiunto un risultato Bisogna già pensare A quello del giorno dopo Chi è per lei Il più grande Friulano Invece Le chiedo Ce ne sono tanti Dipende dai momenti Guardi A me non piace Fare le classifiche Mi piace Non tutti possono arrivare Al top Può essere grande Una persona Che con il minimo Che ha a disposizione Riesce a ottenere Dei risultati Che non vanno Mari sui grandi giornali Per cui È soprattutto La nostra voglia di fare Che va messa in evidenza La nostra capabilità E la nostra Umiltà e serietà Perché non c'è più Quella generazione Di talenti Della quale lei È un esponente principale Questa è una bella domanda Mi dispiace Quello che ho detto Anche alla fine I giovani vanno aiutati Vanno stimolati È un momento difficile Perché Con i computer Con tutti i giochi Forse qualcuno Voglia sacrificarsi E pensano Soprattutto che Si possa raggiungere Gli obiettivi I risultati Il successo Senza fatica Raggiungere I risultati Ci vuole fatica Ci vuole determinazione Soprattutto Lavorare E mai Pensare Di essere già arrivati Io Ho girato il mondo Quando ero natore Che anche vincevo Andavo sempre a vedere le partite Perché volevo migliorarmi Se non ti migliori costantemente Se non ti aggiorni costantemente Non ottieni risultati L'unica squadra di Friulana Di Serie A L'Udinese Ha tanti stranieri Cosa pensa di questa politica? Ha ancora senso Parlare di Friulani nel calcio O insomma Bisogna far giocare Chi è migliore E come sta vedendo Del Neri Sulla panchina dell'Udinese? Del Neri Sono molto contento Per Del Neri Perché era stato criticato Nelle sue ultime Apparizioni Come allenatore Avevo dimostrato Grande serietà Grande umilità E capacità Capacità di dare Carattere a questa squadra E dare un'identità di gioco Per cui Sono molto contento E Per quanto riguarda L'altra parte della domanda Guardi Io Ho criticato Televisivamente Perché faccio anche il vostro mestiere Gli allenatori italiani Perché non avevano coraggio Di far giocare i giovani E Forse qualche cosa È servito anche questo A fare Dire ai presidenti E dire agli allenatori Guardate che forse Ogni tanto Bisogna avere il coraggio Di mettere qualche giovane E si vedono dei risultati Si vedono Quest'anno Soprattutto In maniera particolare Dei giovani interessanti Perché giocano Giovani stranieri Perché Soprattutto Se sono di colore Sono un po' più amanti Fisicamente Perché hanno qualche cosa di più Credo che Ci vorrebbero Più di pazienza E più insegnamenti A quelli che sono locali Mister Ma pensa che L'Udinese Dopo queste tre vittorie consecutive Possa aspirare a qualcosa di più Di una mezza classifica O di una lotta per non ritrocedere Guardando la classifica Non parlerei Di lotta per ritrocedere Mi sembra Una buonissima posizione Però non bisogna Adagiarsi E continuare a lavorare Come sta facendo adesso L'Udinese E quindi Sarà Un'annata tranquilla Da poca partita Con un po' di timore Con il presidente Della associazione Allenatori calcio Di Udine Gianni Tortolo Ho percepito Tutti L'emozione Nel ricordare Innanzitutto Il premio Al preparatore Di portiere Zampa E anche il premio Comuzzi Sì Sicuramente Sono due personaggi Comuzzi 21 anni Che è scomparso Ma ogni anno C'è la stessa emozione Perché ricordiamo Un grande allenatore Una grande persona Il premio Preparatore dei portieri Olinto del Bianco 35 anni Vissuti assieme Nell'associazione L'anno scorso Era presente Qui con noi In luglio Purtroppo Ci ha lasciato E quindi Leggere Due righe Per le motivazioni Che non sono due righe Ma secondo me Tutto il significato Che potevo estendere Verso la sua persona Verso quello Che era stato Chiaramente Ti emoziona Un attimo Però Alla fine Sono contento Perché abbiamo premiato Un allenatore Bravissimo Che ha scoperto Tanti talenti Ha lavorato A certi livelli E quindi Secondo me Il premio Alessandro Zampa È stato Degno riconoscimento Per Olinto del Bianco Che è stato Sempre un amico Non lo dimenticherò Almeno io Sicuramente mai E mister Si conferma anche La scuola Friulana Di allenatori Una scuola Molto importante Con anche Nuovi elevi Che stanno venendo fuori Cioè Nei recenti successi Della calcio regionale C'è anche ovviamente Il lavoro dei mister Beh sì Sicuramente I mister Sono fondamentali Adesso Ancora Mentre Il tempo passa Gli aggiornamenti Sono sempre Maggiori C'è più cultura C'è più tutto E quindi Chi ha veramente Passione Può dedicarsi Al calcio Anche poi Trascurando Per la famiglia Trascurando Il tempo libero Che non esiste più Se uno fa Un'attività E fa l'allenatore Non ha più tempo Se vuole farlo In un certo livello E quindi Secondo me Questo è gratificante Per uno Che ha passione E svedaci Un ultimo Aneddoto Quanto avete penato Per avere Fabio Capello Qui a Udia Ma guarda Alla prima telefonata Che gli ho fatto Mi ha detto Chiamami fra Una settimana Che devo vedere I miei impegni La seconda telefonata Mi ha detto Che si può fare Sì Alla terza Ha deciso La data Quindi non è stato Difficilissimo Mi ritengo fortunato Perché l'abbiamo trovato In un momento Che non ha Grossi impegni Comunque penso Che lui Sia stato Premiato Ma meritevole Super meritevole Di questo premio Ministro grazie E buon Natale Buon Natale a voi Buon Natale a tutti I telespettatori E buon anno Felice anno 2017 A te e a tutti Sono molto contento Perché Ha coronato Questo premio Ha coronato In pratica Il lavoro Di un anno A Tarcento Che è stato Un anno Eccezionale Perché dopo Trent'anni Abbiamo raggiunto La promozione Tra l'altro Quest'anno Stanno facendo Anche bene Quindi sono contento Anche per quello E poi essere premiati In una festa Del genere Insieme A gente Come Capello Insomma Fa sempre piacere Ecco via All'Aurora abbiamo l'obiettivo Di fare una salvezza tranquilla Nel girone di andata Per adesso Abbiamo raggiunto Un po' l'obiettivo Perché insomma Giriamo a 18 Questo non ci deve Naturalmente rilassare Perché abbiamo solo A tre punti I play out Però insomma Pian pianino Stanno rientrando Tutti diciamo I pezzi da 90 Che avevamo fuori E adesso vediamo Se riusciamo a lavorare Magari col gruppo Più al completo No Adesso dobbiamo fare la salvezza Non è il solito discorso Dell'allenatore Perché fino a due domeniche fa Eravamo penultimi No Poi abbiamo inalato Un po' di risultati positivi E sì Questo è il calcio No Una domenica sei sotto L'altra sei sopra Ecco Diciamo che la pausa Deve darci un po' la tranquillità Per ripartire alla grande Via Ma Sinceramente È scappato via subito Quindi è difficile Chiedere Chiedere consigli No Queste sono 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 feste No Allora Ti basta la foto Ricordo e via Grazie a tutti